Si è svolta oggi nell'aula magna dell'Ateneo l'inaugurazione dell'anno accademico studentesco intitolata l'università che vorrei e organizzata dall'associazione universitaria Treiu, la compagnia degli studenti, per festeggiare il decimo anniversario della sua fondazione. I festeggiamenti si concluderanno domani con un concerto d'Ateneo presso la scalinata del Rettorato. A partire dalle ore 21 si esibiranno band composte da studenti universitari. In ambito studentesco la cosa che tutti noi auspichiamo è una maggiore partecipazione degli studenti. La cosa grave sulla quale noi ci soffermiamo molto è che in questa università c'è una scarsa partecipazione degli studenti alla vita politica dell'università, ma alla vita dell'università in genere. Allora quello che noi auspichiamo è che si riesca in effetti a coinvolgere gli studenti a fare aggregazione all'interno dell'università. Soltanto così allora potremo avere dei risultati politici che siano risultati validi, che siano risultati buoni effettivamente, perché serve una forte partecipazione. A votare va soltanto il 15-20% degli studenti per ogni elezione. Noi quello che vogliamo fare è ricoinvolgere gli studenti. Poi se chiaramente sceglieranno tre io la cosa potrà solo farci piacere. Ma l'importante intanto è coinvolgere gli studenti e fare risentire nuovamente l'università come una cosa propria. Lo studente deve sentire un'università sua.